Siamo andate? Buongiorno, bentornati, anche noi siamo tornate, non eravamo andati via per sempre, ma solo un po'. Sono tre mesi che siamo qua sedute praticamente ormai, congelate. Siamo tornate, io, Trappe e i capelli della chi... Eccolo lì! Allora! Santa miseria. Anche oggi, Paes, ci ho portato un nuovo argomento di cui vogliamo parlare. Qual è? Rullo di tamburi? L'argomento che ho portato quest'oggi è un argomento di cultura molto alto, molto elevato e soprattutto, diciamo, in cui tutti si possono riconoscere. Dovete sapere che siamo a maggio. Il mio mese! E maggio è ufficialmente il mese della masturbazione. Eh già. Ma in che senso? Sai che non l'ho capito? Cioè, secondo te, il mese della masturbazione cosa si fa? Sega. E comunque no, e la domanda è che a me sovviene, cioè, inteso, è il mese della masturbazione inteso che essendo, non siamo più in paresina, giusto? No. È inteso che bisogna astenersi, non astenersi, oppure che tipo tutto il giorno, in ogni momento, tipo puoi anche farlo a lavoro. Ehi? Sì. Beh, io sì. Tu non lavori, cosa vuoi? No, però, vabbè, quando andavo all'università, comunque era un lavoro. Cos'era un lavoro? Sì, perché io l'ho sempre letta come un lavoro. Ma comunque non è questo. L'università o? Ma il tema non è l'università, il tema è la masturbazione. In università io... Beh, sì. Studiavi? Lavoravi? Sì. Vabbè. Sì. No, secondo me significa che non si può fare sesso. Ah, solo? Solo schifette. Quindi praticamente per me è tutto l'anno, il mese di maggio. Finirà malissimo oggi, me la sento. Quante volte bisognerebbe darsi all'edonismo? Bisognerebbe? Al giorno, sì, quante volte? Al giorno, alla settimana, facciamo così, più semplici. Sì, anche un po' meno, secondo me. No, te ne sono troppe al giorno. Cioè, dipende, ci sono quelle volte in cui, non so se mi è mai capitato, non so se mi è mai capitato di me, ho sentito dire... Parla per una tua amica, raccontaci di quella tua amica, cosa diceva. Voglio sapere di quella mia amica? Dimmi, dimmi. Quella mia amica lì, alle volte, capitava qualche volta al mese, non so, una volta, insomma, che lui era in grado, era in grado di lavorare con Me, Myself & I anche per sette volte in un giorno. No, però sai, sempre per sentito dire questa mia amica mi dice che... Ah no, ho letto che, sempre questa amica me l'ha detto, però non l'ho letto, che la masturbazione innanzitutto fa dimagrire. E poi fa bene anche alla circolazione e al cuore, sì, 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 riduce la probabilità di infarto, l'ho letto, eh? Cioè, l'ha letto alla mia amica. E secondo me esistono tanti tipi di masturbazione e orgasmo, quante cose puoi masturbare? Mh, eh sì, perché puoi masturbare la vulva, il bene, lo scarotto, lo scarotto, lano, il clitoride, la bocca, l'orecchio, l'ibia, fate voi. Chica, ma tu sei più vaginale o clitoridea? Assolutamente clitoridea! La clitoridea. E voi ragazzi, invece, a cos'è che pensate quando siete in quel momento sole, tra di voi, nella notte? Io tendenzialmente penso alla spesa. Sai che c'ho quel disturbo per i supermercati, che devo, cioè, non lo so, devo sempre comprare qualcosa e quindi basta. Ma tu fai anche la comparazione? Certo! Cioè, il momento dell'orgasmo lo raggiungi quando capisci qual è il prezzo più basso di poter essere un bel idol? Quando lo sconto supera il 40%. Oh, beh, lì è un secondo cuore. E tu trovi! Eh! Oh! Allora, io invece mi... Vabbè, io penso a tante cose. Di solito penso a come vincere a risico e alle strategie in generale di vittoria e a come... Carla, Carla, Gianni. Che becca. Che becca. Che becca. Altre 20 penso a personaggi famosi come... Tony Little. Tony Little! Questo è come quella del comune sindacale. Come Tony Little. Il cavallo del West Furia. Esatto! E tu chi, cara? E qual'è la domanda? Tu pensi? Le fantasie. Ah, le fantasie. Sì. Allora, io penso solo ai tamarri, però non potrei essere così più alta come voi, ecco. Facci degli esempi. Del tamarro? Eh, certo! Come deve essere un tamarro per essere il tipo della chicca? Così se sei un tamarro ma non sai se sei un tamarro giusto per la chicca, adesso lo puoi scoprire. E poi la puoi contattare sul numero di telefono, quindi in superimpressione. 3, 4, 2... 3D proprio! Allora, il tipo tamarro della chicca come deve essere? Beh, facile, ci sono due o tre accorgimenti. Macella scolpita. Ok. Polpacci preponderanti. Preponderanti nel senso che devono essere più grossi del corpo. Gambe incurvate da calciatore, quelle a parentesi. Lì vado di matto. Beh, belle spalle e che non sape parlare in italiano. Cioè praticamente vuoi stare con un tirannosauro? Esatto! Allora, facciamo questa cosa che è un po' un gioco e un po' no, perché è seria. Allora, fai, se tu hai un telefono, io lo. Allora, fai una ricerca Google di quelle che poi vedi con cosa te la completa e metti masturbarsi e vediamo cosa ti darà delle affermazioni, che sono le cose che sono state googolate e noi diciamo se è vero o falsa quell'affermazione. Sì, sì! Sono pronta! Eccomi! Allora, il popolo della rete ricerca, masturbarsi fa passare l'ansia? Sì! Vero, vero! Masturbarsi fa calare la vista? Falso, vero! Masturbarsi è peccato o preghiera? È peccato o preghiera? Secondo me non è peccato ma è preghiera. Masturbarsi influisce sulle prestazioni sportive? Vero, infatti non faccio sport da un sacco di tempo. Domanda numero uno. Segarsi blocca la crescita? Beh, sì, certo, ti tagli, vai sempre più giù, mi blocca la crescita, sì, certo. Non lo so, devo chiedere ad altri buoi pietti. Segarsi, sinonimo? Ok, giocando dei sinonimi. Masturbarsi. Tagliarsi. Tagliarsi? Beh, segarsi, mica vuol dire sempre solo quello. Oddio. Terza frase. Segarti? No. I sinonimi. Toccato a me. Sì, vince chi non ne tarda più, vai. Toccarsi. Pippolarsi. Strusciarsi. Praticare donismo. Hai perso? Scuparsi la mano. Eh? Scuparsi la mano. Ok. Tre, e due, e uno. Sfida due. Sei pronta? Ok. Andiamo avanti? Sì. Dare di gomito. Uh. Eh. Eh. Fare la danza del vinto. Ok. Hai vinto, ok, hai vinto. E adesso, passiamo come sempre, dalle parole, ai fatti. Sei. Esattamente. Quindi adesso, per onore della chicca, che non conosce queste cose. Ah no? Faremo una meravigliosa video reaction. Già mi sento male. Video reaction. Ding. Mi trovo esatto male. Sei brava a cliccare? Aspetta che arrivi. Ok. Sono lì rimettamente a disagio, non è che questo perché si continua a mordere in interrottamenti il labbro. Io comunque, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa. Più che quella, mi sa stessa male qua. No, ma poi mi sembra una, sembra una polla. Mi sembra un po' secca. Non sono esperto di, però. Hai detto con sincerità, ma hai visto una da vicino. No, in realtà io sì da piccolo, però, beh, cioè non era quella di mamma adesso, scema. Però, sì. Il castavino. Comunque lei potrebbe ammettersi tutto quello che vuole dentro, eh? Cioè, secondo me le donne dovrebbero usarla come pochette. Lo sapevo che finivamo male qua, eh? Io lo sapevo che è una bruttità, io te lo sto dicendo. Dare a tre poveri omosessuali, una, cioè, è proprio una cosa che è talmente lontana dalla nostra capacità di concepire la quotidianità, ma che è giusta così, ma è, cioè... Cos'è che tira? Ma ragazzi... Mi piace molto l'elezione. Eh, anche a me, se è vero, quella carta da zucchero è stupenda. Sì, bisogna dire che, no, effettivamente l'ombretto non è sfumato benissimo, però il colore azzurro male non le sta. Anche se le inenze sui piedi, se non me l'avrebbe potuto mettere meglio. Ah, che unghie finte. Sui piedi? Eh, certo. E che tu non le metti? No. E adesso passiamo a un'altra video reaction di cui la chicca lancerà il jingle, video reaction maschile. Video reaction maschile. Quanto sarà alto? Lui? Lui, proprio. Lui. Tra l'altro è un arrendamento... Ma no. Ma era meglio un arrendamento di quella. Di quella. Ma lei è già più professionale. No, ma più la faceva con la bocca a me, eh? Com'è che faceva così? Sì, no. Guarda, quando era un po' più avanti, come facciamo tutti nei video, spoileriamoci la fine. Chissà che succederà. Demone dello spoiler. Demone dello spoiler. Però mi fa morire che ha tipo un rivolo di peli qua in mezzo. No, 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 no. Su il tavolo. Mai mi aspettavo. Ma non si fa. Ma il tavolo no. Può fa effetto, effetto Vinavil. Forse vuole farsi l'infante digitale. Vediamo cosa fa, vediamo cosa fa. Non siete fattori. Ha tirato gli occhi così? Ha venuto sulla tastiera, magari è rovinato. Adesso che fa? Yeah. È contento. È contento. Aspetta che mancano due secondi. 35 secondi ancora. Grazie per averci fatto notare dove è venuto. Cioè, ha anche indicato il punto in cui è venuto. Cioè, che cosa non c'è? Sai com'è? Ma lui è preciso. È preciso. Ma non potevamo farvi iniziare con le video reaction di quelli che cantano male se li indiocano. Sono pensato. Sono molto messo. Siamo finiti a fare di parlarne di queste cose. Allora, no, questo video è finito. Perché mi sembra che sia tutto sufficiente. E' autosufficiente di essere preparato di masturbazione. Esatto. Brava. Abbiamo finito. E quindi vi lasciamo ai consigli per gli acquisti che la chicca elencherà velocemente. Vai. 3, 2, 1. E adesso vi lasciamo ai consigli per gli acquisti. Ma l'ho detto io. Allora, mi raccomando ragazzi. Commentate. Scampanellate. Iscrivetevi al canale. E basta. E' finito. Su YouTube questo puoi fare. Comunque un video di masturbazione dire scampanellato è una cosa che non va fatta. Ci vediamo nel prossimo video. Solo se trapezia sopravvive. Uuuu. Oh oh.